Un omaggio doveroso al fondatore della Fiera Antiquaria di Arezzo. Nel 2016 ricorrerà il ventesimo anniversario della scomparsa di Ivan Bruschi, ma anche il ventesimo compleanno della fondazione a lui intestata e che tramite Banca Etruria gestisce la Casa Museo. Proprio per questo la fondazione dà il via ad una iniziativa che porta ancora di più la Fiera Antiquaria dentro la Casa Museo, nelle sale espositive del Palazzo della Fonte che ospiteranno gli antiquari di più alto valore, che potranno esporre e vendere le loro opere già da questa edizione della Fiera. Locali che sono corrispondenti ai più alti requisiti qualitativi, di sicurezza, di finiture e che hanno anche una veduta, una vista indimenticabile, quella sul loggiato della Pieve di Santa Maria. Abbiamo sposato molto positivamente questa iniziativa perché la vediamo sicuramente come un'attrazione in più per portare il turismo, quindi curiosi e appassionati di antiquariato, ma anche uno strumento in più che hanno i nostri antiquari per poter vendere prodotti di alto livello. Una grande novità è anche quella di poter avere non solo per il tempo della Fiera dell'Antiquariato la possibilità di un acquisto, ma anche durante tutto il mese. Il personale della fondazione potrà sostituire, assistendo l'espositore, agevolare il contatto tra il potenziale acquirente e l'antiquario venditore anche durante il mese. Iniziative che non si fermano nonostante Banca Etruria sia commissariata da molti mesi. La fondazione è amministrata da Banca Etruria che in questo momento ha dei commissari che si stanno veramente comportando nel modo migliore dal punto di vista della loro capacità, competenza e sensibilità alle tante iniziative anche culturali sul territorio.